Di nuovo assieme, ora possiamo andare a vedere i giornali, dicevamo del titolo forte per quanto riguarda l'edizione Terramana del Centro, Teramo Superbonus fino al 2025, criteri senatore Sigismond Illiris, priorità alla sicurezza del territorio, dicevamo del Codacons, taglio alto all'aumento De Prezzi, Abruzzo al quarto posto, Atessa punta al rilancio con la MaxiMoto, c'è un piano decennale, il colosso delle due ruote, poi Abruzzo il bonus, Caro Bolletti in arrivo aiuti ai lavoratori, 3.000 euro. La fotonotizia invece arriva dal Silvi, piange su Orcaro, lo sconfitta dal male, aveva 42 anni. Di spalla invece la cronaca, Pescara, affari con le cosche, traffico di droga, preso ballone, era il capo della banda Battestini, poi come dicevamo Covid, variante Cerberus, ecco il primo caso scoperto a Chieti, lavoratori in nero nel borsettificio, Martinsicuri, i carabinieri denunciano e infliggono al titolare una multa di 21.000 euro. Taglio basso invece Giulianova crede nella rimonta, qui parliamo di Coppa Italia di eccellenza, va a K1 nell'andata di Coppa Italia ma resta in corsa per la finale. Teramo in titoli Civetta, gli eventi, Natale in città, si riparte dai concerti in piazza. Giulianova invece, posti barca, aumentano le tariffe nel porto. Andiamo a vedere all'interno cosa provvede il centro, col superbonus 110 fino al 2025 per tutti i comuni delle cratere, senatori Liris e Sigismondi, si legge nel catenaccio, provvedimento essenziale per la sicurezza dei territori. Il commissario Legnini, misura già pianificata dal governo Draghi con la legge di bilancio 2022, positiva la conferma dell'attuale esecutivo. E qui c'è ovviamente una ricostruzione dettagliata di questo tipo di provvedimento. Sempre sul centro, dipendenze patologiche come trattarle, dal gioco d'alzardo all'alcol, dal fumo alle droghe. Oggi previsti eventi in tutta la regione. Poi il bonus per i lavoratori, fino a 3.000 euro di aiuti, caro bollette benzine, sostegni destinati ai dipendenti delle imprese private. Previsti buoni pasto, auto aziendali, telefonine, utenze domestiche, di luce e gas. Proseguiamo sempre con il centro, questo era l'altro titolo di prima pagina, rincari dei prezzi in Italia, da Abruzzo al quarto posto, stilata dal Codacon sulla classifica delle regioni dove si registrano più aumenti. E tra le prime a subirne la stangata più 3.395 euro all'anno di spesa per ogni famiglia. C'è l'infografica che vede ovviamente questo dato con testa la Sicilia 14,8%, poi la Liguria 13,8%, Sardegna 13,6% e Abruzzo come detto 12,9%. La regione laddove si è registrata la minore incidenza nel mese di ottobre per quanto riguarda l'inflazione è la Val d'Aosta con l'8,8%. In questa pagina poi l'altro richiamo con Abruzzo, ecco il primo caso della variante Cerberus a Chieti. E poi di giunta deliberati nuovi finanziamenti per quasi 16 milioni di euro, questi provvedimenti della giunta regionale nella giornata di ieri. Velocemente anche per quanto riguarda le vicende di politica internazionale, conflitto, le diplomazie, il missile ucraino, la corpa dei russi. Duda ammette la possibilità, ovviamente il presidente polacco, che si sia trattato di uno sfortunato incidente. Sulla stessa linea la Nato che però rafforza la sorveglianza sul lato orientale. G20 Meloni riapre la Cina per rilanciare l'export. Il dialogo con Xi ripartere dalle prospettive commerciali per i made in Italy. La presidente incassa l'invio in Cina e pone il paese come ponte verso l'Asia. Qui c'è un'infografica che va poi a sintetizzare quelli che sono i numeri legati all'indiscambio commerciale tra Italia e Cina. Proseguiamo ancora. Governo Meloni, scontro sull'accoglienza, piante e dosi vuole una svolta sui migranti. A fondo nei confronti dell'Unione Europea risponde preparando un documento condiviso. Tajani, il nostro grido, viene accolto. Presidenziali negli Stati Uniti, Trump di nuovo in corsa, ma in tanti lo scaricano. Il miliartario rilancia il tema del ritorno dell'America, ma i donatori fuggono. Anche la figlia Ivanka si sfila. Scelgo di dare priorità alla vita privata e ai figli. Emergenza femminicidi, uccide la moglie e scappa, poi si impicchia in autostrada. Qui siamo a Salerno. L'uomo ha inflito tre coltellate alla donna davanti ai figli trentenni ed è fuggito dalla tragedia nel Salernitano. Il corpo trovato appeso sotto il cavalcavia della A2. Andiamo velocemente a vedere anche invece la pagina di Teramo. Burocrazia Lumaca. Stop al progetto. Manca un documento. Bloccato l'investimento con posti di lavoro. Colosso Franco Belga acquista all'asta un capannone assantato. Dopo sei mesi non ancora il decreto di assignazione del Tribunale. Questa è la vicenda. Consegna dei diplomi di dottorato e premio la memoria di Reggeni. Cerimonia università il prossimo 25 di novembre. E' sempre l'università. Colpa medica. Convegno sulla sentenza franzese. Domani in Ateneo. Casa dei poveri. Sempre a Teramo scelta. Un'ex scuola. Il comune allestirà il centro di accoglienza e servizi nell'edificio di Villa Pavone. Sempre a Teramo ma la sindacale. Sono senza stipendio da sei mesi. La protesta delle lavoratrici PAP affliggono sui cancelli della casa di riposo dove curano la mensa. Bollette scadute e rate di mutuo. Il problema coinvolge anche i servizi scolastici di quattro comuni. La CGL parla di situazione inaccettabile. Di spalla invece gestione dell'acqua. Movimento 5 Stelle ignorata la proposta di commissione sui serbatoi. E' area arcologica della CONA chiusa in abbandono. Nuovo attacco dell'opposizione. Siamo sempre al comune di Teramo. Proseguiamo sempre con la cittadina prutina. Il Natale terramano riparte dai concerti in Piazza Marti di programma del comune. Tornano gli eventi di massa dopo lo stop per il rischio covid. Pronti pista su ghiaccio e trenino. Luminari accese dal prossimo 8 di decembre. E poi Corte dei Tini cambia dopo 30 anni nell'hotel che piaceva a Berlusconi. Nuova gestione per la storica struttura. E poi su impulso della Lega sta per costituirsi la proloco della città di Teramo. Proseguiamo ancora. Montorio, post sisma, pioggia di fondi, PNRR. In partenza opere per 7,6 milioni. A questi lavori si legge nel catenaccio e si aggiungono quelli finanziati per i terremoti 2009 e 2016. Su tutto il polo scolastico. Approvate nell'ultimo consiglio le varianti al piano regolatore necessario per far partire i crateri. In taglio alto invece la notizia di cronaca che ha amoletto e commentato già in prima pagina. Lavoratori in nero in un borsettificio. Martinsicuri, i carabinieri rilevano diverse irregolarità. Il titolare denunciato è multato di 21 mila euro. Sospesa l'attività. Proseguiamo ancora con la pagina dello sport teramano. Calcio promozione verso il big match. Speranza, il capitano Teramo, ora niente ansia. Dobbiamo cercare di battere la torre, si dice, ma giocando tranquilli. Le mie condizioni cercherò di esserci. Taglio alto, salvamento, va in nazionale. La rositana Giulia Piovani, atletica Granzasso, altro titolo. Giovani in evidenza al cross di Osimo. E poi per quanto riguarda le altre notizie di sport, in questa pagina Teramani è la partita per la pace. Un gruppo di 150 giovani concessi all'iniziativa voluta dal Papa. Calcio a 5. La Lisciani-Teramo cerca il riscatto con l'Atrea capolista. E poi Bollini non molla. Tornerà alla Maratona di New York. Il podista Giuliese ha 72 anni. Era ovviamente il più longevo della pattuglia abruzzese che ha partecipato alla Maratona nella Grande Mela. La Val Vibrata, albadriatica, le opere anti-erosioni, i pennelli non salvano la spiaggia. Il Comune vanno subito rimossi. Inviata alla Regione una richiesta di smantellare i massi perpendicolari alla costa posizionati a maggio. L'assessore Vallese e quei bracci rocciosi non servono più. Anzi, rischiano di peggiorare la situazione. Sempre Val Vibrata, Nereto. Dubbi sul progetto. Il PD. Tanti aspetti da chiarire per quanto riguarda il marciapiede solare. Unione dei Comuni. Ci sono delle teleche. Quella sociale sarà divisa tra Caciotti, Abadriatica e Ciammariconi. Torano, Nuovo. Tortoreto, panchina rossa antiviolenza. L'inaugurazione con la presenza dell'attrice Titocchia. Via delle Messi. Siamo a Martinsicuro. Ancora bloccata. La strada è chiusa per lavori da oltre un mese. Disaggi e proteste. Qui anche una foto ad evidenziare questo tipo di problematica. La pagina di Giulianova. Il caro energia colpisce il diporto. I posti in barca costeranno di più. Per i natanti fino a 9 metri, titolo del centro, la tariffa d'ormeggio aumenta del 6%. Per quelli più grandi del 12%. Intanto la regione annuncia che nel 2023 ci saranno maggiori risorse per le manutenzioni. La politica, sempre a Giulianova, a Tribuiani si dimette da consigliere. Questa politica non mi piace. Gli subentra in quota lega Federico Montebello. Poi mercato ittico via il polistirolo. Comune consorzio di gestione compreremo cassette di plastica lavabili. La pagina di Roseto. Consiglio comunale, il piano delle opere. C'è un milione del PNRR per progettare tre lavori contro gli allagamenti. Interessati in lungomare nord, il centro della città e la zona sud. In arrivo anche 300 mila euro per le verifiche sismiche delle scuole. Sport per i ragazzi con la disabilità. Finanziato il progetto dell'associazione. Oltre collaborano le società della zona. Poi sempre a Roseto continuano i blackout delle luci pubbliche. Il consigliere Pavone accusa. Progett nato male e finito peggio. E poi Ponte sul Vomano slitta l'apertura sulla cerimonia di apertura del Ponte sul Vomano. Proseguiamo ancora. Suor Carol, vinta dal male, aveva 42 anni, due comunità in lutto. Oggi è il funerale. La giovane religiosa era di Silvi e prestava servizio al monastero delle Clarisse di Santa Chiara d'Atri, dove si è spenta. Qui ci sono delle foto della giovane religiosa. Pineto, nuova scuola e opere antifrane. Il consiglio approva le modifiche. Cerrano si è al recupero della torre. Pallozzo c'è un primo nulla osta da parte della soprintendenza. Silvi, la segnalazione dei cittadini. Tombini otturati. Bisogna intervenire. Una foto ha evidenziato questa problematica. La pagina di Pescara. Traffico di droga da 300 milioni. Gli affari di Ballone con le cosche. Arretata da Napoli a Pescara. Arrestato il fondatore della banda Battestini, che è già trascorso 28 anni rinchiuso in carcere. Finanza, Polizia e DDA Campana scoprono i legami con la mafia calabrese. Il pescarese, secondo l'inchiesta, gestiva i soldi. E quindi l'infografica, l'inchiesta sul narcotraffico con i numeri di questa operazione. Operazione all'alba, si legge nel sommario, sono 28 gli arrestati. Manette anche l'avezzanese, Cappelletti. I guadagni riciclati, i proventi dello spaccio reinvestiti nell'acquisto dell'oro. Minacce di morte. Qui siamo a Collegorvino ai genitori. Arrestato. Dato i miei soldi, vi uccido. Un 32enne di Collegorvino finisce in carcere per maltrattamenti in famiglia. Il delitto di popoli. Chiarelli a processo per omicidio. Adesso può rischiare l'ergastolo. Rinviato a giudizio il trentenne che uccise a coltellate Fulvio De Clerc all'apice di una lite per il vino. Il caso approderà dinanzi alla corte d'assisi di Chieti il prossimo 29 di marzo. I parenti saranno parti civili. Poi rinviata all'autopsia di D'Angelo. Nessuna certezza sul rientro. Il trentottenne di Penne morto a Francoforte. E poi la storia che arriva da Spoltore. Così ho salvato il giocatore da un malore. Spoltore premiato il giovane arbitro che ha soccorso un ragazzo in campo. La Lega Nazionale di Lettanti è stato speciale. Proseguiamo ancora. L'omicidio sulla strada Parco. Le indagini. Cavallito e il giallo delle pistole. Comprò le armi per 1000 euro. L'ex calciatore sopravvissuto all'agguato le acquistò illegalmente nel 2019 da un colombiano. Ora anche l'altro episodio finisce nell'inchiesta sul delitto dell'architetto Albi con tre indagati. I presidenti del ferito, polizia e procura scavano nei guai giudiziari del 49enne che fu coinvolto in un'indagine su un giro di droga tra Puglia e l'Abruzzo. La pagina dell'Aquila. Fotosexy. Qui siamo però a Sulmona. Sui social per vendetta. Una minorenne chiede giustizia. Il primo caso del genere finisce in tribunale. Diffuse dall'ex fidanzato diventato da poco maggiorenne e finite sui telefonini di tantissime persone. La scoperta fatta dai genitori della ragazzina è entrata in possesso delle immagini. L'udienza a gennaio. Il giovane ha attuato il suo piano dopo essere stato lasciato ben presto e gli scatti sono diventati virali. Poi scanno, bimba di 15 mesi, cade in casa e batte la testa. Scanno, soccorsi dell'eliambulanza, complicati dal maltempo. La piccola trasferita al bambino Gesù. Lotta all'illegalità. Appalti e stanziamenti del PNRR. Le priorità dell'azione della finanza. Il generale Buratti ha da poco assunto la carica di comandante interregionale delle Fiamme Gialle. Alle sue dipendenze ci sono i reparti da Bruzzo, Lazio, Sardegna e Umbre. L'insediamento a Roma. Proseguiamo ancora. La pagina di Chieti. Lo abbiamo anche letto e commentato in precedenza. L'operaio sparito torna a casa nella notte. Diego Morabito riabbraccia i familiari dopo tre giorni di ricerche. Il fratello sta bene, per ora non ha dato spiegazioni. La storia ha lieto fine. A Tessa. La Honda punta sulla MaxiMoto. Piano di investimento decennale. Colosso delle due ruote. Dal primo luglio scorso i contratti a tempo di determinato sono passi da 350 a oltre 500. E si punta a 900. L'alta stagione inizia il 5 dicembre. La pausa natalizia quest'anno potrebbe essere molto più breve. Proseguiamo ancora con la pagina della Cultura. con anteprima abruzzese per Tananai, l'artista Mociano Sant'Angelo, la prima data del tournei club. Ecco, Rave Eclissi. Album di inediti. Questo disco è il sunto delle mie due anime. La parte leggera è quella introspettiva e romantica, dice l'artista. La bellezza non ha prezzo. Vita e calcio, secondo Zeman. Appena uscita la tipografia del tecnico boemo che fece del Pescara un gioiello. Questa è la recensione sul libro dell'allenatore di calcio. Proseguiamo ancora. Croce a 70 anni dalla morte. Omaggi in Parlamento e libri. Il filosofo abruzzese lasciò Pescassereoli dopo il terremoto di Casamicciola. Tra i più autorevoli intellettuali del Novecento segnò la critica letteraria per decenni. E poi da Vivaldi a David Bowie per il violoncello di Sollima con i solisti aquilani. Andiamo a vedere anche la pagina sportiva con il calcio di Serie C. Plizzeri l'anno del riscatto e Pescara in mani sicuri. Il portiere cresciuto nel Milan si sta rilanciando a suon di buone prestazioni. Efficace e concreto, a 22 anni sta ricambiando la fiducia di chi l'ha scelto. E si sta mettendo alle spalle le ultime stagioni avare di soddisfazioni. Tanto Turris in tanto alta tensione, permessi annullati. L'ex maniero ancora il dente avvelenato. Questo ovviamente con il prossimo avversario. Si giocherà lunedì il posticipo tra Turris e Pescara. Proseguiamo ancora con il calcio dilettantistico. La Coppa Italia d'eccellenza. L'Aquila sorride. Il Giulianova finisce K1. Nelle semifinali di andata, successo rosso-blu firmato da Reie. Giallorossi sconfitti dalla Sambuceto il 30 novembre il ritorno. Per quanto riguarda la partita tra l'Aquila e Pontevomano, si legge nel sommario momenti di apprezzione per il Terramano Cimini e Epifani. Ora pensiamo alla sfida con il Castelnuovo. Per quanto riguarda il Giulianova, sconfitto a Sambuceto 4-3. Di Viola sul 4-1. Poi le due reti che consentono alla squadra di Cerasi di sperare nel passaggio del turno. Come detto, a campi invertiti si giocherà il prossimo 30 di novembre. Poi con il basket, Chieti, due punti buttati. Prima domina, poi crolla. Nel recupero del girone rosso della 2 di basket, la Mocambo cede a Mantua. I biancorossi si sciolgono nell'ultimo quarto. Domenica la trasferta di Bologna. Lasciamo il centro, andiamo invece a vedere cosa propone l'edizione abruzzese del Messaggero. Qui il titolo forte invece riguarda l'inferno. Nel centro immigrati, l'aquila, botte, schiaffe, insulti e persino un sequestro di persone. Quattro indagati, si tratta dei gestori dell'attività e due aiutanti stranieri. L'inchiesta verso il processo. Taglio alto, invece, bussi, sonde termiche per bruciare i veleni del sottosuolo. Teramo, ragazzi net, non studiano e non lavorano. Cresce l'allarme. Pescara, parliamo ovviamente di calcio di Serie C, verso l'est. Pronto ad arrivare Ivan Mesic. Di spalla, invece, la giudiziaria Piloni Ammalorati chiesto il rinvio abbreviato. L'udienza è il caso dell'autostrada dei parchi in tribunale acquisiti. Nuovi documenti. La fotonotizia, invece, riguarda l'epidemia. Scoperto il primo caso, Covid, è arrivata la variante Cerberus. Dopo i casi di Centaros e Pentagon arriva anche in Abruzzo Cerberus. L'ultima sotto variante del Covid è considerata più contagiosa rispetto alle altre. Sempre in prima pagina. Banda Battestini, esponente in cella per droga. È stato arrestato Massimo Ballone, coinvolto in un'operazione a Benevento. Poi Pescara. Delitto, perizia sulla pistola, caccia al DNA. Lanciano, sesso all'aperto, il Comune accende le luci. Questo è l'altro titolo di prima pagina. Andiamo, invece, a sfogliare all'interno cosa propone il messaggero. Virus, guerra d'energia. Pila, quota zero nel 2023. Questo è uno dei nodi economici della Regione. Gli indicatori di Confindustria coincidono con le previsioni del Professor Pino Mauro. Quest'anno chiude in meno l'automotive, mentre resta intatto il tessuto produttivo. Inflazione superiore di un punto percentuale rispetto alla media nazionale, come ho visto in precedenza per quanto riguarda l'indagine diffusa dal Codacons. Covid, ora ce la conferma. Arrivata in Abruzzo la mutazione Cerberus. Proseguiamo ancora. Pescara, da Black Friday a Natale. Il budget povero non frenerà gli eventi. Cremonese rassicura i commercianti dopo l'annuncio del taglio alle luminari. Ieri in Comune il vertice tra l'assessore e i rappresentanti delle associazioni. Città di bambini, grandi eventi e spettacoli minori confermati, pista di ghiaccio, mercatini e concerti. PNRR, invece, approvata la consulenza d'oro, poi in consiglio si litiga sui vaccini. Sempre a Pescara, ma con la cronaca Pescara criminale, Ballone torna dentro, era in affari con il re della droga. L'ex esponente della banda Battestini si elegge del catenaccio famoso per la laura conseguita in cella, accusato di essere uomo di fiducia del boss Raffaele Imperiali. Custodiva incendi ingenti partite e incassi, tra i 28 arrestati e anche un altro abruzzese, il corriere Carmine Cappelletti. Poi caso Albi, dove i primi tre indagati si punta a far luce sui mandanti. La squadra mobile ancora a lavoro sul retroterra affaristico dell'architetto e del socio Cavallito. Proseguiamo ancora. Sonde termiche e bussi per la bonifica dei veleni. I terreni contaminati saranno portati a 100 gradi per eliminare gli inquinanti. sotto controllo dell'arta, la tecnica viene sperimentata nel sito Tremonti. La pagina dell'Aquila, centro d'accoglienza Lager, scatta l'inchiesta della procura, maltrattamenti, minacce, lesioni, personale, botte e umiliazioni. Quattro gli indagati, si tratta di gestori dell'attività, due aiutanti stranieri. Questo ovviamente è il titolo forte che abbiamo visto anche in prima pagina. Sempre all'Aquila, lungo le mura storiche, nascono gli istruttori di Nordic Walking, la cinta aquilana scelta come centro di formazione nazionale del progetto Camminac di Aingua. Il 3 dicembre la presentazione. Avezzano, Sanità di Pangrazio, riapre il fronte. La consigliera Alessandra Cerone convocherà a breve la commissione per assumere importanti decisioni. Invito i massimi dirigenti ASL per risolvere il caso Avezzano. A cominciare dai primari dei vari reparti del presunto caso ACAM. Proseguiamo ancora con la pagina di Chieti. Rete idrica, lavori infiniti. Allo scalo torna la protesta. I residenti denunciano carenza d'acqua di notte. La nuova condotta non è pronta. Capriotti pronti ad andare sotto la serie dell'ACA. A Fenora, spesi 300 mila euro. Per questa notizia particolare che abbiamo visto anche in prima pagina, Lanciano sesso in piazza alla rabbia dei residenti. È successo vicino alla Basilica, ieri sopra luogo dei tecnici e dell'assessore Paolucci. Va potenziata l'illuminazione. Intanto si pensa alla modalità, ai punti nei quali sistemare l'illuminare natalizia e si lavorerà d'intesa con i commercianti. Porto, siamo Ortona, 34 milioni per il potenziamento. Le opere prevedono la riqualificazione della banchina di Riva, la messa in sicurezza dell'intero fronte. La pagina di Teramo, crisi della scuola, cresce il fenomeno dei ragazzi nette. Si tratta dei giovani che non studiano e non cercano lavoro. In provincia sono circa 5 mila, quasi 21 mila nella nostra regione. Questo è il focus acceso dal messaggero. La preside divisi, devo spesso convincere gli studenti ad andare avanti. Le testimonianze. Sempre a Teramo, troppi parcheggi per i disabili, protesti per la sosta in via. Lucidi, di spalle, invece, dipendenti senza stipendio, bollette affisse all'ingresso. La protesta d'Anna Divan, dinanzi alla casa di riposo. Poi porta la droga in carcere al figlio condannato. Questa la giudiziaria. Sempre a Teramo. Proseguiamo. Ferrovia, addio al secondo Frecciarossa. Gironova perde uno dei due treni veloci per Milano, che erano stati in funzione durante il periodo estivo. Dino Forcellese dice su queste cose bisogna lavorarci, coinvolgere regione e ferrovia dello Stato per mantenere i servizi. Convento, morta a 42 anni, suor Carol e lei fedeli chiedevano aiuto e conforto. Qui notizia che arriva da Atri. Poi Giulianova dispalla questionario e forum per un nuovo campo da basket. Lo sciamano della pittura espone a Sant'Omero. Opere fatte di colori, più di 100 tele di Thierry Lambert, alla Minedi Art Gallery. La curatrice dice che l'autore è uno dei più importanti artisti francesi dell'arte contemporanea. E poi di taglio basso, negozi via gli sconti con le tessere della Proloco. Qui siamo a Tortoreto. E poi anche a Giulianova con la notizia di politica. Pietro Tribuiani lascia il consiglio. Ricordiamo, era stato candidato sindaco alle ultime elezioni in Quota Lega, perso il ballottaggio con Ivan Costantini. Sempre con il messaggero, velocemente a vedere la pagina sportiva. Pescara Mercato, la strada dell'Est, il direttore sportivo dell'Icarri pronto a chiudere con lo slovacco Ivan Mesi, che difensore molto simile a Pellacani, il tecnico, ha già dato l'ok e l'operazione. Poi Ferraresi, l'arma Colombo, l'ex centrocampista del Delfino, ha un debole per Mora, è un giocatore di un'altra categoria. Poi con il basket, Mocambo Chiedi nel recupero cade a Mantova. Con il calcio di Lettanti, Giulianova cade a Sambuceto. Risultato pirotecnico, 4-3 negli Adriatici avranno modo di ribaltare il verdetto nella gara di ritorno il prossimo 30 di novembre. Chietini avanti 4-1, poi l'ingresso di Francesco Di Paolo. Rossi ha realizzato due rigori, Cerasi e Cis fiorano il pari al 95esimo. E l'altra gara invece vince il Ponte Vomano, l'Aquila vince gara 1 con il Ponte Vomano. Sempre con il calcio di eccellenza, sul Mona, Mr. Bernardi. Tenteremo per i play-off, il tecnico soddisfatto dei suoi, dobbiamo migliorare in difesa. E poi sempre in eccellenza, Lanciano ha troppi pareggi, morale ma non classifica. Il Biondi intanto è ancora indisponibile, il Comune di Treglio ha resciso il contratto per il campo sportivo. E la chiusura ovviamente con il calcio di promozione, Teramo, Eccola, Turris e Speranza lancia la sfida. L'esperienza del capitano nel primo momento spartiacque della stagione. Uno sconto diretto del prossimo fine settimana appunto con la Turris Val Pescara. Questa era la nostra ultima notizia, io vi ringrazio per l'attenzione. Di prima mattina finisce qui, nell'augurarvi un buon proseguimento di giornata. Vi ricordo l'appuntamento classico delle 9 con la colazione. Grazie a tutti.